Nella lingua friulana la parola felicità non esiste. Questo significa che per noi friulani è impossibile essere felici oppure si può essere felici ma in fondo in fondo si resta sempre un po' furlans. Mi è semplestate sui coionza felicità. Felicità. Ma non sta fammi ridi. Cerisi, chiappassi, tocchiassi, stracciassi, bussassi, deseassi. La felicità è un processo chimico, due di poi. Adrenaline. Endorfine. E yeh. Gianni. 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 Anche prima di arrivare al friù. Io? No, eri neri. Alle ducca dentri, qua dentro. Ugovizza, aghe, Zulio, aghe, agliere bisiac. Mai fidarsi dei bisiacs. In your head, in tua cabeça, dal tocchiare. Dal disco il cuore, io di Bessole o stoi di lusso. Ho le mie chiese, la mia macchina, il mio lavoro, Sky. La miglior droga è la lucidità. Qualcuno ha il momento? Scusi, ma quando torni a pensare, che storia? Domandami a ciò che stai pensando? Dai, domandi mal. Annuglie. Il pensiero è il primo ostacolo tra te e la felicità. Steve, non sta a pensare. Annuglie. Annuglie, annuglie, non succede annuglie. La bevi nasade, l'om che altra des, al pucce di bausie. Tu mi domandi che cos'è la felicità. E io ti dico che cos'è la box. La box è la metafora da vite. Anzi, ti disarai di cui. La box è la metafora di... Hai visto Gran Torino? Tempo fa, in televisione. E io ero la prima del paese. Assume aveva un astronauta. Un'ebbielissima televisione valvolare. In blanche e neri, eh? Era dove il primo canale. O anche me pari le apiade all'ere tutto il paese a Ciasenestre. C'è emozione. E il giornalista l'ha detto che per aule lì, che io non le conoscetevi, non si feve lave tagli anni in che volte. E allora gli ha domandato a me pari. C'è robe ise la felicità? C'è robe ise la felicità? C'è robe ise la felicità? C'è robe ise la felicità. E io è la bruade. Per il mio figlio. Bisogna tenere i conti le persone che ti vogliono bene. Non mi resta anche lui. All'è così come si incumò. Come la bruade senza il suo museo. La bruade di Bessole non covente a noi. Pupà, pupà, c'è robe ise la felicità. Me pari mi acchialare per qualche seconda festa di voi. All'è ridotto e poi dopo mi ha tirato un scufiotto a plena mano. Tassi, c'è strano. Me pari sì che l'era un uomo. C'è un certo carattere. Al fa seve due cieche di seve somari. Se mi aveva ascoltato e come ho non fa sarese l'ingegnere. Io mi sono metto da lì. E allora nessuno arrivava a sentire la televisione. E così andaccata a due c'adami scufiose. Ha regal mancolo una cinquantina di loro tra il salotto. Tal Zardin. Mi sono chialato a Tor e per prima volta hai capito che ieri Bessole non avevi più noie. La mia femmina, il mio lavoro, vecchio, Bessole, Crot. Sì, ho ieri Crot. Il cesso di sora si è rotto e allora ho stato facendo la doccia tal Zardin. Con la pompa. Blam! Alveve man come fratonele. Blam! Blam! Un altro scufiotto. In quel momento hai vede? Tal quest just. In tal momento just. Bellissime. Nere. Ho capito che ieri è il mio destino. Ti ha limitato a voi e rispondimi? Parcè se tu spordigerato? Si, si, chialas. Mi sono svicinato a Biel Plan. Ho svicinato la mia boccia alla sua. L'estrenzo di fuarte. Ho spogliato a Biel Plan. Delicato. Il dè sul grilletto. Scusi, ma di cosa stiamo parlando? Di scloppe. La scloppe di Gianni. Parcè? Oh! Oh, beh, vi dò me dispietà. Il momento perfetto. Doi! Ho fatto una piccola pressione sul grilletto e... E tre! Puttana! Scusi, scusi, scusi. E dopo sono arrivati i carabinici, sono arrivati. E poi dopo pompisti, giornalisti e... Gli azzurri. Se non fosse stato un scloppe giugato, lo avrei fatto. Parla bene. Tutta l'è succeduta in quel dì. O ieri lì, sull'inicio. Ieri vade. L'ho chiapato in mano. E lui? All'elato. C'è un cennante che ha la mia muse. A ieri il 188 di avril. Dall'85. Ah, quindi è successo quando lei andava all'asilo. Non mi va io. Non mi va io. Vuole un fazzoletto? Il dolore ha fatto partire dal gioc. È l'altra faccia della medaglia. Il ben è il mare. Lo yin è lo yang. E viceversa. Nel'incente tribù di me nonno ha esistito le parole felicità. Ma non è che l'avamo atto a rompere le sbagli di oggi. Per esempio, me nonno ha conosce 35 moods differenti di merda di rinoceronte blanca. E ha l'estim dal 1920. E è come la Playstation. Qualche ampano esisteve e si viveve di l'uso di stessi. Come ho so me che sono tutte le astre e sono meno male. Al manco la Playstation. Si vende, si compre, si toglie. Forse alle mie ore non è arrivato che alle mai la felicità. Le vere domande. Noi è? C'è che gli è? O c'è che non gli è le felicità? Piuttosto, rivino ricognossile, quanto a tu che ha le nostre porte. Scusate, Nina, ti c'è Steve. Ma il disco è lato un fassoletto al zurviello. Prego, si sieda. Mi dica che cos'è per lei la felicità. Cal, scusi. Può dare se altro non a fammi le domande? Questo era un bel prazer. Musica Chiaro che in tanto che non siamo chi amenazzo il titolito, in Cina sono novecento milioni di topazzini che lavorano come bestie. Novecento milioni di topazzini, più fuori di topazzini, più grandi di topazzini. E tu? Tu ti lamentis di crisi? Vavore, vavore!